Riforma penitenziaria al palo scioperano anche i penalisti abruzzesi. Contro il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della riforma penitenziaria nei lavori delle commissioni speciali parlamentari, gli avvocati penalisti si astengono anche in Abruzzo, oggi e domani. Una protesta che culmina in una manifestazione organizzata per giovedì 3 maggio a Roma presso la residenza di Ripetta. In una durissima nota il direttivo della Camera Penale dell'Aquila, Emilio Lopardi, parla di una scelta irresponsabile, quella di fingere che non vi siano ragioni di urgenza, di umanità e civiltà, per dare il via libera definitivo all'elaborato frutto del lavoro svolto nel corso della scorsa legislatura dagli stati generali dell'esecuzione penale che hanno visto partecipare l'Accademia, l'Avvocatura e la Magistratura. Lungi dall'essere una svuota carcere, un salvaladri, si spiega poi il direttivo della Camera Penale, la riforma finalmente tornerebbe, seppur timidamente a porre la giurisdizione al centro del percorso esecutivo, evitando che la concessione di benefici e misure alternative possa essere regolata esclusivamente da automatismi che per loro natura escludono qualsiasi valutazione sul cammino rieducativo compiuto dai condannati. Purtroppo, conclude la nota, le sirene elettorali, cui canti continuano a distrarle anche dopo le votazioni, impediscano che venga compiuto un piccolo ma significativo passo verso la riaffermazione dello Stato di diritto e la compiuta attuazione della Costituzione. Grazie.